E' stato bloccato il profilo TikTok in cui si inneggiava i detenuti di Indrangheta, Mafia e Camorra. Erano oltre 34.000 persone che si erano iscritte al profilo. Adesso troveranno la scritta account bloccato gli utenti che cercano il profilo broker detenuti 78. Non è chiaro chi sia stato a oscurare la pagina. Secondo quanto si è appreso, i carabinieri avevano appena iniziato gli accertamenti quando il profilo è sparito. Nel profilo erano pubblicate le foto di arrestati con in sottofondo canzoni che inneggiano alla mafia. Migliaia erano i commenti caratterizzati dalla frase «una presta libertà» e insulti ai collaboratori di giustizia. Nel canale non mancavano riferimenti ad operazioni condotte in Sicilia, Campania e Puglia contro mafia e Camorra, ma anche foto di collaboratori di giustizia accusati di avere tradito i loro fratelli e altri insulti di vario genere. Sulla vicenda erano subito intervenuti i carabinieri, ma la pagina è stata chiusa prima che potessero risalire all'autore.